Cari amici, candidi, stracandidi, cari amici azzurri e non, bentrovati sul canale dello stracandido azzurro, un cordiale, cordiale saluto a tutti quanti voi e quindi come avete letto nel titolo, Murigno torna in Italia sulla panchita della Roma, i titoli dei giornali questa mattina tutto facevano pensare fuorché un ritorno dello special one o dello specialone in Italia sulla panchina della Roma, poi perché tutti davano un sarri ormai a un passo dalla firma ho letto, è invece la notizia boom che sta girando un po' in giro per il mondo di un Giuse Burigno che torna in Italia e firma un contratto triennale con la Roma, un progetto a lunga scadenza, è comunque un piacere ritrovare un allenatore di questo calibro nel nostro campionato però ci porta anche a fare delle riflessioni, la prima riflessione che mi viene da fare ovviamente veste d'azzurro perché ora, io mi ero già espresso su Sarri e su un ipotetico eventuale ritorno sulla panchina azzurra, per quello che riguarda l'uomo storcerei un po' il naso perché quello che era stato il comandante di quella squadra meravigliosa che è arrivata a un passo dal sogno scudetto non lo so, non mi accende il cuore, quali certezze ci siano nel rivederlo riproporre un tale spettacolo però è chiaro che adesso con la notizia di Murigno alla Roma qualche conto lo si può fare alla Lazio Inzaghi non dovrebbe succedere niente di che, dovrebbe rimanere al suo posto l'Inter, se non c'è Conte ci potrebbe essere Allegri la Juve è un punto di domanda, se non è Allegri, boh un ritorno di Sarri mi sembra improponibile c'è il Milan che se Pioli non dovesse andare in Champions League magari potrebbe pensare a qualcosa di diverso e perché no anche Sarri l'Atalanta con Gasperini mi sembra a posto così e manchiamo noi manchiamo noi anche se secondo alcuni Spalletti sembra essere vicinissimo alla panchina azzurra ma questa situazione fa pensare allora a questo punto che chissà, magari veramente il silenzioso Aurelio stia preparando anche egli un coup de théâtre un colpo a sorpresa che possa stupire perché no la Piazza Azzurra ora quanto poi Sarri, ripeto possa tornare a proporre quello che propose all'epoca io non lo so servirà anche del materiale umano a disposizione che è un certo livello per proporre quel tipo di meraviglioso calcio però questo è un dato che non ci forniscono non avremo probabilmente nelle prossime due settimane perché a conti fatti mancano poco più di due settimane alla fine della stagione e quindi non ci resta che aspettare per quanto riguarda la panchina azzurra a meno di clamorosi colpi di scena anticipati e ci sono davanti due settimane e mezzo abbastanza importanti non solo per noi ma anche per le altre per la corsa alla Champions League assodato e consegnato lo scudetto all'Inter di Conte resta questa appassionante corsa verso i posti Champions League e io vi dicevo attenzione perché il calendario può essere magari favorevole rispetto a quello delle altre ma ci sono gli imprevisti e puntualmente gli imprevisti sono arrivati perché non solo la notizia dell'infortunio di Coulibaly che starà fuori forse due settimane quindi vuol dire fuori per tre partite Spezia, Udinese e Fiorentina lo potremmo ritrovare all'ultima giornata contro il Verona ma oggi anche la notizia di un Maximovic positivo al Covid-19 questo vuol dire che ci troviamo a giocare in una settimana in cui avremmo dovuto anche poter fare del turnover soprattutto in quel posto in quella situazione di campo la difesa un turnover preventivo per prevenire degli infortuni visto che si gioca ogni tre giorni ci saranno temperature sempre più calde e invece pam la sfiga è dietro l'angolo perché adesso avrai una settimana in cui dovrai giocare tre partite Spezia, Udinese e Fiorentina con solo due centrali a disposizione e quelli meno adatti a giocare insieme perché lo hanno dimostrato Manolas e Ramani Ramani ha dimostrato di fare molto bene con Koulibaly e con Maximovic Manolas ha dimostrato di fare molto bene con Koulibaly un po' meno con Maximovic con Ramani non ricordo se abbiano mai giocato insieme ed eccolo lì l'imprevisto che ti distrugge i piani perché adesso non solo dovrai giocare con una coppia non collaudatissima forse la meno collaudata di quelle possibili ma dovrai farlo per ben tre partite di fila e tre partite che si giocheranno in sette giorni sabato si parte con lo Spezia martedì si gioca poi con l'Udinese e poi domenica a mezzogiorno a mezzogiorno con chissà quanti gradi a Firenze bisogna lavorare bene sull'affidabilità della coppia centrale bisogna fare un gran lavoro io mi auguro che le motivazioni di un Rino Gattuso che sembra comunque essere qualsiasi sia il risultato del campo lontano da Napoli e da un possibile rinnovo sia che sia Champions sia che non sia Champions l'augurio è che possa comunque essere talmente professionista da non mollare di un centimetro e di stimolare la squadra per far bene il proprio dovere una squadra che potrebbe aver risentito della botta del gol al 94esimo di Nandez che ti ha tolto due punti ma che non ti ha eliminato dalla corsa verso i posti Champions League avevamo un jolly da giocare ce lo siamo giocato e adesso bisognerà fare di tutto di tutto per riuscire ad ottenere quattro vittorie che sono l'unico risultato che con certezza ti porta in Champions League qualsiasi altro risultato ti porterà a dover fare dei calcoli su quello che faranno gli avversari chiaro noi giocheremo sabato alle ore 15 e avremo poi tutta la domenica per vedere quello che faranno le altre anche il sabato se non ricordo male c'è la Lazio al sabato o la domenica a mezz'ora se non ricordo però avremo a disposizione tutto il weekend per vedere quello che faranno le altre e anche nella giornata successiva nell'infrasettimanale giocheremo di martedì anticipando tutte le altre quindi saranno le altre che in questo caso avranno pressione cosa diversa nel weekend successivo perché ma guarda un po' ci piazzano ancora una volta Juve-Inter il giorno prima di Fiorentina-Napoli ecco l'augurio è che si decida di cambiare l'albergo a questo punto perché se abbiamo già perso uno scudetto in albergo non vorrei perdere anche una Champions in albergo quindi o non vi vedete la partita la sera prima o cambiate albergo quindi decidete che cosa fare quindi bisogna rimanere sul pezzo bisogna lottare fino in fondo e è vero abbiamo fatto un incipit in cui abbiamo parlato di quello che chissà potrebbe essere il futuro della panchina azzurra ma ad oggi tifosi del Napoli chi siederà sulla panchina dal 22 dal 24 di maggio non ci deve interessare pensiamo a quelli che ci sono oggi che devono regalarci una grande soddisfazione e in questi 20 giorni avranno modo di farlo quello che ci auguriamo speriamo che possa succedere io vi ringrazio vi saluto vi auguro una buona serata a tutti godetevi la Champions League un abbraccio a tutti quanti voi iscrivetevi al canale se vi va attivate la campanella se vi va condividete il video ovviamente sempre se vi va il cane si è incazzato hashtag forza Napoli sempre e il calcio sappiatelo e ricordatevelo fa bene alle ossa un abbraccio grazie a tutti